Un luogo incantevole, un vero gioiello. Sono state queste le prime parole del ministro della salute Beatrice Lorenzin al suo arrivo a Teramo per una visita al centro di formazione dell'istituto zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise Caporale. Tante le autorità politiche, civili e militari ad aspettare il ministro che, accompagnata dal sottosegretario alla giustizia Federica Chiavaroli, non ha eluso le domande più scomode sui nuovi vertici degli ZS Teramano dalle stesse mesi fa contestati. Pace fatta con i vertici degli ZS di Teramo? Non c'è nessun tema di pace, c'è una questione di tipo formale che ha dato vita ad un contraddittorio di tipo formale. Per me, io sono il ministro, mi interessa il funzionamento del centro e il livello di ricerca che viene adottato qui. Finanziamo la ricerca finalizzata e i progetti in base a quello che ci viene presentato. L'istituto è di fatto stato sempre sostenuto dal ministero in base al buon andamento interno. La visita del ministro della Salute Lorenzina all'istituto zooprofilattico di Teramo è stata anche l'occasione per ricordare al governo l'importanza delle ricerche di eccellenza che l'istituto svolge e la necessità di avere strutture più idonee. Facciamo una previsione per il 2017, come lo vede questo istituto? Lo vedo come sempre a testa bassa a correre. L'obiettivo che ha sempre caratterizzato questo istituto è quello di cercare di essere un passo avanti ai problemi e cercare di prevenirli e in questa direzione ci muoviamo. Certo l'impegno che abbiamo davanti è quello della realizzazione della nuova sede. Questa nuova sede parte con un finanziamento del ministero del 2001 credo, del ministero della salute e poi insomma tutte le vicende che ci sono intercorsi siamo arrivati ad oggi con anche questa iniezione di risorse importanti del masterplan e siamo nelle condizioni di partire.